Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Guarda con tenerezza particolare le famiglie dei disoccupati, dona a tutti un lavoro affinché con la loro opera creino un mondo migliore e diano lode a Dio creatore. Ti affido la Chiesa, in particolare il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i missionari perché si sentano sostenuti dalla tua paternità. Chi li può amare più di te, o caro San Giuseppe? Proteggi tutte le persone consacrate perché trovino nella tua obbedienza e adesione alla volontà di Dio l'esempio per vivere nel silenzio, nell'umiltà e nella missionarietà la vita di unione con Dio che le rende felici nel compimento della divina volontà. La gioia di sentirsi di Dio è così grande che non ha paragoni. Solo in Dio si trova tutta la felicità. San Giuseppe, esaudisci la mia preghiera. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.